Chi ha vissuto questo da bambino lo porta dentro e lo può vendere a macchina. Di fatto che dopo 20 anni ci proviamo qua a fare le stesse cose. E' una cosa bellissima, meravigliosa, per quanto mi riguarda. Altri possono trovarla sicuramente fuori luogo, è pazzesca, però fa parte di noi stessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.